Da oggi fino a venerdì i rifiuti a Polignano, così come negli altri comuni ex Ato Bari 5, rimarranno nei cassonetti o nei compattatori messi a disposizione dall'azienda Tecno Service. I cittadini sono invitati a differenziare quanto più possibile e a limitare lo smaltimento di rifiuti nei bidoni. L'avviso del sindaco Vitto è conseguente alla decisione della magistratura di revocare la facoltà d'uso per solo i tre giorni alla vasca in via di riempimento nella discarica di Conversano. Da quello che trappela dalla procura, i carabinieri del nucleo ecologico effettueranno in contrada a Martucci una serie di rilievi tecnici tali da sbarare l'accesso a chiunque. Rilievi disposti nell'ambito dell'indagine coordinata dal PM Baldo Pisani per il lecito smaltimento rifiuti. L'assessore regionale Lorenzo Nicastro, ieri in serata, ha firmato un'ordinanza che autorizza i 21 comuni coinvolti a trasportare rifiuti biostabilizzati a Brindisi. Analogo provvedimento venne preso l'indomani del sequestro dell'impianto di Conversano prima che il PM concedesse la facoltà d'uso. Allora i rifiuti biostabilizzati non venivano accettati a Trani creando cumuli di spazzatura nelle strade. Se si dovesse verificare la stessa cosa a Brindisi, per soli tre giorni la situazione a Polignano dovrebbe reggere. Andare oltre sarà difficile. Di qui la necessaria collaborazione dei cittadini a conferire il meno possibile rifiuti.